La lingua e i romanze L'anteprima del film è stata l'occasione per una riflessione sul fenomeno UFO oggetti volanti non identificati, per alcuni la prova dell'esistenza di vita extraterrestre. A mezzo secolo dalla sua nascita, il Centro Ufologico Nazionale ha raccolto una casistica che vanta oltre 12.400 segnalazioni, risalenti fino al 1900, ora tutte pubblicate e computerizzate. Secondo questa analisi, la maggior parte degli oggetti sarebbe stata individuata tra i 150 e i 200 metri di quota. Il Centro verifica subito l'attendibilità delle testimonianze. Cerchiamo di vedere chi è il testimone, cerchiamo di vedere il contesto, quindi andare sul posto e cercare di costruirlo. Questo significa che su 250 casi, 4-5 poi diventano interessanti, gli altri no. Negli anni si sono susseguite numerose ondate di segnalazioni, le più importanti nel 1952, 54, 77 e 78. Uno degli episodi più rilevanti fu nel 1990 sopra la base NATO di Bruxelles. Come spiegare questi fatti? Gli esperimenti nucleari, allora sono stati più di 2.000 e interferivano nell'atmosfera perché erano fatti a cielo aperto. Probabilmente le onde elettromagnetiche hanno dato un messaggio in diretto a qualcuno che sia accorto magari della nostra presenza. Siccome la nostra ricerca è una ricerca che si basa su indagini, ma anche sul ragionevole dubbio, bisogna avere la mente aperta, possibilista, ma allo stesso tempo non fare voli pindarici perché non aiutano la ricerca.